Musica Buongiorno e bentrovati in questo mercoledì 19 ottobre su TRG di nuovo insieme con il nostro TG Mattino la rassegna stampa con le notizie Umbre dai quotidiani in edicola questa mattina e dunque in diretta leggiamo subito insieme i titoli dei quotidiani e per cominciare come sempre il Corriere dell'Umbria che parla in apertura di Terni, Varato, il Digirolamo Bis, il sindaco nomina Tiziana De Angelis come assessore ma la maggioranza è ancora a rischio. Si parla anche del mondo produttivo Umbro con la Perugina che punta sul gelato la cialda del Maxi Bon a San Sisto e questo è il nuovo obiettivo della Perugina e poi l'inchiesta Sisma e Mazzetti, oggi tre Umbri davanti al GIP si svolgono a Pescara gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla ricostruzione post terremoto a Bussi sul Tirino. A Gubbio nasce un consorzio in difesa dei Ceri dopo che proprio l'immagine dei Ceri era stata utilizzata a scopo commerciale e su questo si è espressa anche la regione dell'Umbria che ha spiegato di volersi unire a chi vuole difendere non solo l'immagine dei Ceri ma anche il simbolo della regione dell'Umbria. Spettacoli Umbria Jazz Winter dal 28 dicembre al 1 gennaio, omaggio a Gili Vance, De Andrè e Dalla. Questa era la prima pagina del Corriere dell'Umbria, siamo alla nazione che fa un'inchiesta su Eurochocolate, dolce e amaro, pubblico da record ma anche degrado e inciviltà come spiega bene questa fotografia con le strade imbrattate nel pubblico del grande evento perugino spiega alla nazione si nascondono veri e propri vandali e a Ponte San Giovanni si prostituiscono davanti alla chiesa tra loro anche nigeriane rifugiate, la protesta degli abitanti. Anche la nazione parla della scommessa perugina, a San Sisto nasce il Polo del Cacao e in via Mazzini, ancora Perugia incendio e tanta paura in centro e le intercettazioni per la ricostruzione in Abruzzo, Casa Roscini intercettata, la moglie Stefano fammi capire quanto rubamo. La denuncia dei 5 Stelle camicia in aula, un quarto d'ora in cassa, 116 euro. Era questa la prima pagina della nazione Umbria e siamo al messaggero dell'Umbria di oggi eredità evaporata e io vado al Tara, battaglia sulla capacità della parente che vende un pezzo di patrimonio e poi i comuni all'arma omicidio stradale, summit con bocci agli interni, preoccupazione per problemi legati allo stato delle strade, sul tavolo anche nuovi fondi contro le buche, il PM Comodi dice le risorse ci sono, basta gestirle in modo trasparente, allarme omicidio stradale da parte dei comuni perché con la nuova legge proprio sull'omicidio stradale dello scorso 23 marzo c'è anche l'elemento della manutenzione delle strade che viene valutato in caso appunto di morte. Perugia con lo spray, muri KO, solita firma, l'imprendibile imbrattatore, sfregia anche porta e burnea e poi autofocus, il vero nodo della sicurezza sulle strade, come fare prevenzione. Sui rifiuti, caos, borgogiglione, legambiente boccia, tutti. Andiamo ora agli approfondimenti con le pagine regionali dal Corriere dell'Umbria che parla delle indagini sull'operazione Earthquake. In 10.000 pagine la presunta cricca. Oggi gli interrogatori davanti al GIP, i tre umbri coinvolti nell'indagine sulla ricostruzione post-sismo uno potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. E poi l'omicidio stradale continua a dividere misura populista in un evento formativo promosso dall'Ordine e dai giornalisti sono emerse le posizioni critiche del PM Comodi e di Campi, presidente dell'ACI. Ancora per le cronache Umbre dal Corriere dell'Umbria, attualità, centro linguistico, nuovo direttore in arrivo dall'Ateneo, assicurano che il CLAA funziona bene e da gennaio rilancia in arabo. Un angolo per la storia, la passione di volare con un elicottero e conquistare il cielo, Maria Concetta Micheli, che tutti chiamano il comandante, è stata la prima donna italiana a guidare il veicolo e ne parla Elio Clero Bertoldi. Queste erano le pagine regionali del Corriere dell'Umbria, siamo alla Nazione, assidui contatti con un politico, l'imprenditore è pronto a parlare, Casoroscini via agli interrogatori, oggi Piccotti e Riccardini dal GIP. E poi sulle intercettazioni, la moglie al telefono, famme capì quanto rubamo, captate le singolari richieste della consorta e subito dopo la perquisizione. E ancora per l'economia Umbra, non soltanto di Perugia, Perugina è tempo di rilancio, a San Sisto il polo del cacao, la fabbrica diventa centro internazionale, nuovo spot in TV. E sulle case aumenta nella nostra regione la domanda, prezzi stabili, i dati riguardano il terzo trimestre in Umbria. C'è poi un allarme che riguarda il mondo del lavoro che proviene da Bravi, dell'IRES, Renelli, CGL, assunzione a tempo indeterminato, in Umbria si registra un calo record. E queste erano le cronache regionali dalla nazione, siamo al messaggero dell'Umbria, i comuni allarme omicidio stradale, abbiamo visto la questione che riguarda la nuova legge nazionale sull'omicidio stradale che coinvolgerebbe anche chi non fa adeguata manutenzione sulle strade, summit con bocci, espressa forte preoccupazione per problemi penali in incidenti legati allo stato delle strade, sul tavolo anche nuovi fondi contro le buche, il PM Comodi, le risorse ci sono, dice basta gestirle in modo onesto e trasparente. Poi c'è il caso dell'uomo che ha 83 anni, ieri notte ha viaggiato contro mano sul raccordo Perugia-Bettol, da Olmo fino a Prepo. Trasporti, ex FCU, arrivano i premi a ecapistazione nei giorni delle polemiche legati ai ritardi dei treni, accordo in prefettura tra aziende e sindacati per gli arretrati dei bonus. C'è anche il benefit pagato, il ritardo per gli addetti al servizio elettrico con reperibilità, il saldo arriva in due rate. Chiudiamo le pagine regionali con Umbria Regione, la pagina del messaggero che apre con la mostra di Sandro Chia a Foligno, l'arte tra esperienza reale e sogno, il Centro Italiano Arte Contemporanea porta la transavanguardia in Umbria e accende il dibattito superato, il postmodern, l'artista riporta la pittura attraverso la natura, i fiori e le storie degli uomini e il messaggero ci ricorda che la mostra è aperta il venerdì nel pomeriggio, sabato e domenica, mattina e pomeriggio e il curatore è Italo Tomassoni. Brega, commercio, un testo unico all'insegna di trasparenza e partecipazione, la commissione decide dare impulso alle attività presenti e poi il vero nodo della sicurezza sulle strade, il focus a firma di Ruggero Campi. Erano queste le notizie regionali, ora come sempre uno sguardo ai temi riguardanti l'economia, in apertura il Corriere parla ancora della Perugina in corsa per la cialda del Maxi Bon, ieri l'incontro a Milano in Nestlea Italia, occhi puntati sulla produzione di gelati, al via la campagna marketing. Per la meccanica andiamo a Marsciano, emu verso la vendita, sindacati preoccupati convocano un incontro con l'istituzione, sul commercio è stato approvato il testo unico via libera dalla commissione. Non ci sono più assunzioni stabili, secondo l'ultimo rapporto dell'IRAS, CGL calo sensibile in regione degli impieghi a tempo indeterminato. E ciò nonostante, potremmo dire, sugli immobili torna la voglia del mattone. Giovani coppie in Pol, si consolida la domanda di abitazioni e caccia alle case di pregio, soprattutto nei centri storici. E ancora per quanto riguarda le notizie della nostra regione, siamo agli inserti culturali. Gilles Evans, Deandre Dalla, Umbria Jazz Winter, rende onore a 3 BIG, alla 28esima edizione del Festival Invernale di Orvieto, dal 28 dicembre al 1 gennaio. Ci sarà anche Chris McBride, John Patitucci, Paolo Freso, Dado Moroni e Rita Marco Tulli. A Foligno invece Gianluca Grignani e la sua chitarra in concerto, sabato 12 novembre alle 21.15. Siamo alle pagine culturali del Messaggero dell'Umbria e degli appuntamenti. Ovviamente si parla di Euro Chocolat, i segreti del cacao svelati a Perugia. Oggi i paesi produttori di tutto il mondo si ritrovano a Euro Chocolat per discutere del futuro del settore produttivo e annunciare le prossime iniziative di mercato. E ancora i Lions fanno scoprire il lato oscuro del web in un intervento del Lions Club Perugia Host. Si parla anche dei fumetti randagi allo Zenit dalle pagine del Messaggero quando le nuvole diventano arte. Un fumetto in mostra il 15-16 ottobre al complesso San Girolamo per fumetti randagi. Una vera e propria vetrina della creatività nel settore. Passiamo ora ai territori, i territori dal Corriere dell'Umbria a Perugia. In primo piano con gli occhi puntati sui luoghi occulti. Il questore dice da qui parte l'azione preventiva contro la minaccia di radicalizzazione di tipo jihadista e poi via dall'appartamento Ovisparo due arresti romeni nei guai per la polizia con le minacce che volevano far sloggiare una famiglia nigeriana in affitto. Equitalia addio con tanti dubbi, i pareri dei perugini sull'ente che è ormai destinato a scomparire e tutti concordi sui modi poco ortodossi ma sul suo superamento ci sono incertezze. Ancora Perugia, gestione diretta degli impianti sportivi. La preconsigliare dice sì ma è polemica. Passano le modifiche con i soli voti della maggioranza. Opposizione all'attacco su diversi aspetti. E c'è anche il caso di chi si presenta. La commissione è quasi finita, la diffida del Movimento 5 Stelle. Niente, gettoni e rimborsi, Rosetti all'attacco di camicia che si difende. Quando la rete porta l'utente fuori strada dal bullismo alla pornografia con un click al posto di una campagna del Ministero spunta fuori un sito con contenuti a sfondo sessuale. Capita anche questo. E ancora per i territori del Corriere dell'Umbria in edicola oggi lasciamo Perugia. Andiamo a Città di Castello, giornata importante per l'ex ospedale, sindaco in regione. Oggi alle 11 c'è l'audizione di Bacchetta che metterà sul piatto 3 milioni per realizzare la Casa della Salute all'interno dell'edificio. E poi sono arrivate 16 profughi in un appartamento acerbare. Il capogruppo di Forza Italia Sassolini denuncia problemi igienici nella casa in via San Florido. Il generale Ciceri in visita alla compagnia e comandante interagionale dell'arma dei Carabinieri ha incontrato i militari dell'Alta Valle del Tevere. E sempre a Città di Castello, nuovo ribaltamento di un autocarro in un bypass lungo la E45 a Promano. Il mezzo è stato rimosso dall'autogru dei Vigili del Fuoco. Siamo a San Sepolcro per l'omicidio dell'Omarino, disposto dal PM Maggiore il prelievo di un altro tampone salivare per comparare il DNA di Polverini, un atto utile a chiudere l'indagine. E ancora a Città di Castello, parole di conforto dal vescovo ai genitori del quindicene ricoverato al bambino Gesù, dagli amici del cuore un defibrillatore in ogni scuola. Per quanto riguarda Sisi, verranno attivati entro novembre i sei posti letto del pronto soccorso. Si sblocca una situazione che aveva generato più di un malumore fra gli utenti. Ancora Sisi, Libera incoraggia il Comune a tenere la guardia alta sulle infiltrazioni mafiose e Ciotti a sinistra contro l'impianto del camminaccio. Il luogo è già abbastanza compromesso. Dal piano Franchi dipende il rilancio della città. Siamo a Bastia Umbra dove l'ex consigliere PD Pecci incalza l'amministrazione a governare con decisione il processo urbanistico. Andiamo a Gubbio dove nascerà un consorzio per difendere i ceri e tutti i simboli dell'eugubinità. Il sindaco Sirati annuncia la svolta dopo i tanti casi di uso improprio dei simboli della città. E in Basilica una reliquia di Giovanni Paolo II domenica pomeriggio alle 17 a Sant'Ubaldo la cerimonia solenne dopo la donazione da parte del Cardinal Zivis. E Banfi, Chiatti e Laurenti saranno ospiti della mostra del tartufo di Gubbio. Saranno in città sabato 29 insieme al regista. Parliamo anche di traffico. Acropoli, liberata dalle auto, la prima fase sperimentale riguarderà 19 aree del comune di Gubbio definita dalla giunta alla lista di vie e piazze interessate. APU sarà la sigla che caratterizzerà le aree pedonali individuate nel centro storico. Andiamo a Gualdo Tadino, Nawal ha realizzato il suo sogno, punti e spunti ora cammina da solo. Dopo un corso alla Caritas, la giovane tunisina parte con il suo laboratorio di Sartoria. Ancora andiamo a Nocera Umbra, taverna di Porta Santa Croce, messa fuori uso dai vandali, danni anche a un'opera d'arte. La Presidente chiede di avere un luogo sicuro. E siamo a Foligno, imprenditoria femminile in forte calo, dal 2012 hanno chiuso 110 attività, si salva solo il settore della ristorazione e della ricettività secondo i dati della Camera di Commercio di Perugia. E ancora a Foligno per parlare di gioco d'azzardo e slot machine piccolotti. Ecco come intervenire, l'esponente di Sinistra Italiana propone tre interventi per circoscrivere il fenomeno. Sport, pala winner, sì, della giunta al progetto, ospiterà una pista di atletica di 60 metri, i tempi per la realizzazione saranno di tre mesi, i lavori potrebbero partire in primavera. E il premio Attila del WWF va alla VUS e al Comune. Ecco cosa non funziona, Presenzini parla di evidenti criticità sul ciclo dei rifiuti a Foligno. E proseguiamo con la rassegna stampa e con le notizie dai territori dei comuni Umbri. Siamo a Perugia e c'è un'inchiesta che parla di degrado pubblico, via delle cantine diventa una latrina. Ecco l'altra faccia di Euro Chocolate, squali di spettacoli lungo via delle cantine nei giorni della Kermes. La via viene trasformata in una sorta di latrina. E c'è il bilancio dei commercianti, soddisfatti soltanto a metà. C'è chi beneficia dei numerosi turisti e chi invece lamenta scarsi affari, ma bar e pizzerie vanno a gonfie vele. E ancora navette notturne per gli studenti. Siamo ancora a Perugia, ora ci sono i soldi per farle partire. La regione mette sul piatto 50 mila euro e dice sì alla sperimentazione. E poi a 83 anni va contro mano sul raccordo, non sbadato, si brucia la patente. Rifiuti illeciti nei terreni agricoli spunta anche la dirigente comunale. Abuso d'ufficio è falso ideologico al centro dell'attività dell'AgriFlora. Intanto nessuna traccia della 46enne scomparsa. È stata ritrovata una giacca nelle vicinanze del Tevere all'altezza di Deruta, da dove è scomparsa, ma non ci sono aggiornamenti. Paura in centro va a fuoco la cucina del ristorante Via Nova, ancora a Perugia, in via Mazzini. Momenti di apprensione tra turisti e passanti, ingenti danni riportati dal locale. E siamo ancora alle cronache perugine, lucciole davanti alla chiesa, sale la protesta della gente. A Ponte San Giovanni le nigeriane rifugiate fra le donne che si prostituiscono davanti alla chiesa del paese. Il progetto del Torreno si ferma e rischia di restare al palo per mesi. Questioni tecniche e scontro tra comune e regione. La nazione svela e retroscena, scontro anche sui posti. Per Palazzo dei Priori l'ideale è 992, per la regione si può salire a oltre 1.400. E ancora per i territori siamo a quelli dell'Eugubino. Per la preziosa reliquia a Sant'Ubaldo verrà esposto il sangue di Papa Voitila. Domenica la cerimonia con il Vescovo Cecco Belli. Si tratta di un piccolo lembo di stoffa macchiato con il sangue del Papa nell'attentato del 1981. E ancora a Gubbio, Laura Chiatti e Lino Banfi alla Mostra del Tartufo. A Gualdo Tadino il comune mette un freno a slot e gioco d'azzardo. Ad Assisi i frati esportano solidarietà. Centri salute inaugurati in Giordania, opere per giovani rifugiati realizzate grazie al Sacro Convento. Padre Enzo Fortunato fa sapere che sono stati stanziati 300 mila euro raccolti in occasione dell'evento con il cuore. Ancora da Assisi, gasificatore e cinema prodano in consiglio. A Bastia invece piace la nuova collocazione del mercato di Coldiretti. Dopo le pagine di Assisi e Gubbio siamo a Sansepolcro dove un dipendente di banca è stato minacciato, arrestato lo stalker con la Roncola. Incursioni a San Giustino si era invaghito della donna. Cerbara arrivano altre 16 profughe, si infiamma la questione stranieri, il sindaco Bacchetta chiede maggiore organizzazione e più controlli sanitari. E c'è la storia infinita dell'ex ospedale in regione, appello dei sindacati oggi alle 11 l'incontro. Summit sulla sicurezza in Alto Tevere si è svolto con la visita del comandante interregionale alla compagnia di Città di Castello, il generale Ciceri, che si è incontrato con il capitano Manichino. E poi il nodo sul nuovo assetto della zona industriale, previste troppe aree commerciali, problemi per il centro storico. L'appello parte dal gruppo consigliare Castello Cambia. Siamo a Foligno, sette auto incendiate in tre mesi, l'ombra di un piromane seriale. Il sindaco di Trevi dice che questi episodi alimentano un clima di allarme. E ancora a Foligno, premio Attila a Mismetti e alla VUS, la bacchettata del WWF e del suo presidente Sauro Presenzini. Ancora a Foligno, Gianluca Grignani all'auditorium sabato sera. A Cannara, nuovi rallentatori e semafori vicino alla scuola, li regalerà lente festa della cipolla. Siamo ai territori dalle pagine del messaggero dell'Umbria. A Perugia, imbrattatore scatenato, ora tocca a Porta e Burnea. Con lo spray è stato sfregiato, un altro angolo suggestivo del centro storico. Da via Caporali fino a via Pellini, le solite firme per sporcare i muri. Presenza sprint in commissione, elite, via libera alla pratica, impianti sportivi, ma c'è l'esposto di Rosetti sul minutaggio di camicia. Blizza fontiveggio, azione a Tenaglia contro lo spaccio, l'offensiva della polizia su Piazza del Bacio e in altre zone della stazione, fermati i sospetti, alcuni sono stati portati in questura. Ancora la notizia delle fiamme al ristorante, paura in centro storico. Vi spariamo se non ve ne andate a San Sisto, follia in un condominio. Ancora per i territori, siamo a Gubbio, tutelare i ceri, anche la regione in campo. E poi vogliono vendere la Emo, alta tensione, a Marsciano, a Città di Castello, il vecchio ospedale per servizi di pubblica utilità. E ancora per i territori, ci avviciniamo alla Valle Umbra e siamo a Foligno, l'auditore un compio e 20 anni, raffica di eventi per la festa. Il restauro venne effettuato impegnando 4 milioni di euro, offerta vastissima che va dalla musica al balletto al teatro, arrivando ai convegni. E poi il premio Attila, lo ricordiamo, del WWF, va al sindaco di Foligno e alla VUS. Foligno anche per quanto riguarda l'associazionismo, perché l'Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica, sezione di Foligno, presieduta da Gianluca Insinga, ha dato una tessera onoraria all'oro olimpico Cammarelle, che di fatto entra nella sezione folignate dell'Ancri. Ed erano queste le notizie dai territori, come sempre ora una brevissima pausa, ma torneremo, torneremo fra poco per parlarvi di sport. Non mancatevi.